e per evitare accumuli quando si muore tutto torna libero. Basta eredità, tutti devono avere le stesse opportunità. Grazie mille per questo tuo commento che secondo me esprime un concetto molto interessante che condivido pienamente. Ecco su questo argomento mi piacerebbe conoscere il parere dei talebani della meritocrazia, quelli che dicono che se uno ha successo è tutto merito suo. E poi magari mamma e papà gli hanno pagato un'università da 90.000 dollari all'anno negli Stati Uniti o gli hanno lasciato in eredità 30 appartamenti. E mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che in alcuni miei video hanno commentato che i dipendenti non dovrebbero nemmeno più esistere e che tutti dovrebbero essere a partita IVA, in modo che ognuno venga pagato solo ed esclusivamente per quello che merita. Ecco, sareste della stessa opinione se non poteste ereditare la fabbrichetta o magari il negozietto da mamma e papà?